Una giornata speciale per la Federazione Italiana di Atletica Leggera, qui a Rovigo si sta celebrando, non solo qui a Rovigo, ma anche qui a Rovigo si sta celebrando il record del mondo di Pietro Bennea con una gara speciale, di cosa si tratta? Sì, grazie Caterina, saluto tutti gli ascoltatori. Oggi è veramente una giornata speciale per la Federazione Italiana di Atletica Leggera che mi onoro di rappresentare per la provincia di Rovigo. 39 anni fa Pietro Bennea, uno dei forse il più conosciuto atleta di Atletica Leggera italiana, fece un record del mondo sui 200 metri che durò circa 17 anni. Ecco, visto che questa è la sua impresa più famosa e che Mennea è stato un campione non solo fuori, dentro il campo ma anche fuori il campo, oggi tutta la Federazione Italiana di Atletica Leggera lo celebra facendo correre in una manifestazione ufficiale, con tempi ufficiali, in una città per ogni regione italiana, in contemporanea, tutti gli atleti che lo desiderano, sia tesserati che non. Quindi anche qui a Rovigo abbiamo atleti che provengono da tutto il Veneto per cimentarsi su questa distanza che ha reso famoso Pietro Mennea e che proveranno a fare dei tempi importanti. Abbiamo anche gente di un certo spessore. Ecco, in quanti siete oggi? Di che età? Che discipline? Ah, guarda, partono dai sei anni e arrivano fino ai 75. Abbiamo anche un 75enne che credo farà il record, tenterà il record italiano, probabilmente, non so. Quindi 300 atleti suddivisi prima i più piccoli e poi mano a mano a crescere con i tempi più veloci a seconda degli accreditamenti FIDAL. La manifestazione durerà un paio d'ore e sarà soprattutto però un momento per la memoria, non ci saranno classifiche, non ci saranno premiazioni, anche se i tempi verranno riportati ufficialmente poi nelle schede di ciascun atleta nel portale della federazione. Però, ripeto, oggi è un giorno di festa e un giorno di memoria per ricordare non solo l'atleta ma soprattutto l'uomo Pietro Mennea e l'esempio che ci ha lasciato. Grazie mille. Grazie a voi.